Oggi andiamo a vedere la seconda parte della lezione intitolata Immaginazione più fede Due o tre settimane fa ho ricevuto una lettera Io ho pensato che fosse una lettera strana quando ho iniziato a leggerla Viene da un prigioniero Non conosco affatto quest'uomo Si è firmato come Bob E ha legato una busta con il suo indirizzo Si trova a Folsom Folsom è un posto dove vengono mandati solo i prigionieri incaliti Beh, ha confessato di avermi sentito in televisione E ha messo tutto in pratica E ha funzionato Ho avuto 20 apparizioni televisive la domenica pomeriggio Tra le 2 e le 2.30 Ha detto che l'ha applicato E ha detto Neville ha funzionato Dove sto andando non lo so Ma sono qui per un bel po' E quindi non importa se rispondete stasera, domani o quando volete Perché io sono qui Ma vorrei che rispondeste a certe domande Quel tipo è interessato all'uso dell'immaginazione Stranamente interessato al mistero della morte Vorrebbe sapere se posso mandare un qualsiasi pensiero sulla morte Basandomi naturalmente sulle mie esperienze Non cose che riguardano gli altri Ma ciò che so sulla morte Beh, gli ho scritto appena prima di venire qui A quest'ora deve avere la lettera Vorrei poter andare a Folsom E parlare con i detenuti E dire loro della loro vera dignità L'uomo che sono destinati a essere Perché sono destinati a essere il Signore Gesù Cristo Ogni bambino nato da donna è destinato a essere Cristo E essere consapevole del fatto che lui è il Signore Ma come arrivarci e rivolgersi a loro? Non lo so Lui è la mia lettera Gli ho scritto in dettaglio quanto più possibile E lui la condividerà con coloro che sono interessati Sono vitalmente interessati alla morte Gli ho detto, come direi a chiunque Che incontro persone che non sono consapevoli Del fatto che hanno fatto la transizione Non sanno nulla del fatto che sono morti Perché non sono morti Non sono morti e nessuno può convincerli che sono morti Parlano con un uomo che è vivo quanto te E tu gli dici che è morto E che sei andato al suo funerale E sai esattamente dove l'hanno messo sotto terra Rivelando ciò che si aspetterebbe da te come amico Ma ride perché sa di non essere morto E io dico, no, non sei morto Ma sei morto, lo sai? Ma sei stupido? Mi dice Non sono morto Ma sono morto? Vedete, c'è tutta la differenza Del modo tra la resurrezione Che avviene per tutti quelli che muoiono qui La restaurazione istantanea in un mondo inspiegabile In un corpo nuovo Come era prima ma nuovo Inspiegabilmente nuovo e giovane Se muori a 90 anni, hai 20 anni Ed è una restaurazione istantanea Beh, questa non è la resurrezione La resurrezione è l'uomo che si risveglia effettivamente dal sogno della vita Mentre nell'altro caso L'uomo viene restaurato per continuare il sogno Sta sognando le condizioni intorno a lui Come sta sognando le condizioni qui Cos'era se non un sogno sveglio e controllato? Quello che ho fatto quando sono salito a bordo della nave? Quando sono uscito dall'esercito Non era forse un sogno Un sogno da sveglio ma controllato? Quando presentai la mia domanda di congedo con onore Mi fu negata e firmata Colonnello Tudor Bilbo Jr Era il mio ufficiale comandante Nell'undicesima divisione corazzata Non potevo portarlo al comandante di reggimento o di divisione Potevo solo portarlo al mio comandante di battaglione Ed era lui E lui la firmò disapprovato Quella notte andai a dormire nella mia piccola cucetta Con tutti gli altri soldati E pensai di essere a New York Nel mio appartamento A Times Square Ero nel mio letto Mia moglie era nel suo letto E la nostra bambina era nella sua culla E poi mi sono alzato Tutto nella mia immaginazione E ho camminato attraverso il mio appartamento E ho sentito gli oggetti familiari Potevo vederli tutti Potevo vederli nell'occhio della mia mente E ho chiarito a me stesso Che non ero lì in licenza Ero stato congedato con onore E dormivo ora come civile Quella stessa notte Prima verso le 4 del mattino Arrivò in visione un enorme foglio bianco E sul foglio bianco c'era la parola Disapprovato Firmato Colonello Tudor Bilbo Jr Poi arrivò una mano Solo una mano con una pena E la pena grattò via la parola Disapprovato E in grassetto scrisse Approvato Una voce disse Non fare nulla Nove giorni dopo L'ufficiale in comando Il colonello Bilbo Mi chiamò E dopo avermi fatto una lezione Sul fatto che l'uomo meglio vestito in America E l'uomo che indossa l'uniforme americana Mi disse Ho deciso di lasciarti andare E poi firmò il mio rilascio Quello stesso giorno Ero fuori dall'esercito Congedato con onore Non gli disse Quello che avevo fatto Ci avrebbe creduto? Per quanto fosse orientato alla guerra Mandando milioni di noi in battaglia Potevo credere che l'immaginazione Potesse portare la pace? Come si può prendere un uomo addestrato Come era addestrato E persuaderlo Che una supposizione Anche se falsa Se persistete Si indurisce in un fatto Come potrebbe mai crederci? Eppure io Ero la prova vivente Di ciò che avevo fatto Se gli avessi detto Quello che avevo fatto Non avrebbe mai creduto Che quella era la causa Del fenomeno fisico Che mi ha portato Al treno E poi a New York Questo è esattamente Quello che ho fatto Nella visione Di quella notte Proprio come avevo detto Il foglio con il suo nome E la parola disapprovato E poi La mano che cancella La parola disapprovato E scrisse In gessetto Approvato E poi questa voce Che viene dal profondo Dice Quello che ho fatto L'ho fatto Non fare nulla Non feci nulla E nove giorni dopo L'ufficiale mi chiamò Lo approvò Mi strinse la mano E mi disse Goddard Ci incontreremo a New York Dopo Che avremo vinto Questa guerra Nessuna discussione Conoscevo la causa Di tutto ciò E non mi sembrava Il momento giusto Per condividerla con lui Beh L'avevo scoperto E l'avevo applicato Perché Non applicare la verità Se pensi di averlo trovata E così l'ho trovata L'ho usato E ha funzionato E quando qualcosa Si dimostra Nella performance Cosa importa Se tutto il vasto mondo Si alza in opposizione A essa Si palesa in una prova Quindi sto condividendo Con voi Ciò che ho provato Ma non funziona da solo Voi siete il potere operativo Quindi Lo portate a casa E sapete esattamente Chi è Dio Non ci viene detto Nel quarto salmo Comunica con il tuo cuore Sul tuo letto E taci Salmo 4.4 Non con il cuore Di qualcun altro Comunica con il tuo cuore La parola cuore E mente Sono sinonimi Di significato Comunica con la tua mente E fidati Di quella mente Fidati implicitamente Credete nella realtà Dei vostri atti Immaginari E questi atti Immaginari Si oggettiveranno E diventeranno Ciò che il mondo Chiama Fatti oggettivi Lo faranno Quindi se iniziate Dietro la palla otto O dietro Qualsiasi cosa Che sembra Essere in opposizione O una qualcosa Di invalicabile Beh Voi credete in Dio Vi sto dicendo Chi è Credete nel vero Dio Mettetevi alla prova E vedete se credete Veramente nel vero Dio Sono convinto Che il 99% Del mondo Affermerà Di credere in Dio Ma credono In un falso Dio Lo attaccano al muro Un'icona fatta Da mani umane E si fanno Il segno Della croce Lui non ci ha fatto Leggete il salmo 115 Che shock Che shock Quando vedi Che l'uomo adora Quello che fa Con le proprie mani E lo chiama Dio Non ha occhi Che possono vedere Non ha orecchie Che possono sentire Ha Occhi Ha orecchie Ha narici Ha braccia Ha piedi Ma nessuno di queste cose Si può muoversi Le occhi Non possono vedere Le orecchie Non possono sentire La bocca Non può parlare I piedi Non possono muoversi Eppure lo guardano Come è Dio Il salmo 115 È la cosa più meravigliosa Da leggere È uno shock E poi Torna a trovare Il vero Dio Il Dio vivente Il Dio che non può morire Il Dio che è in te Il tuo sei immortale Quel Dio non può morire E questa è la vostra Meravigliosa immaginazione umana E se tu dovessi cadere ora Saresti istantaneamente restaurato In un corpo identico Completamente nuovo Inspiegabilmente nuovo E giovane Non un bambino Non nato di nuovo Solo nuovo Come avenga Non so dervelo So solo Che li ho visti E loro Non lo sanno La maggior parte di loro Non sa che ho fatto Il passaggio In una sezione Del tempo più adatto Al lavoro Che deve ancora Svolgersi in loro Quindi non significa Che siccome vi lascio cadere Nell'anno 1971 Vi troverete ora Nell'anno 71 No Potreste trovarvi Nell'anno 1000 O nel 3000 Ma questo È irrilevante La sezione di tempo In cui siete collocate È fatta Dalle profondità Del vostro stesso essere Lui sa meglio Di chiunque altro Di cosa avete bisogno Per operare Che è iniziato Dentro di voi E sta lentamente Abbattendo il muro Di divisione Tra voi due Fino a farli Diventare uno Sta sfregando Quel muro Tra te e lui Quando sarà Completamente sfregato Sarete uno È essenzialmente Che lui Lascia tutto E si unisce A sua moglie Per diventare uno Non due Tu sei sua moglie Fino a quando Il sonno della morte È passato Così questa è L'emanazione di Dio E poi Col tempo E li cancella Con la piccola divisione E diventa uno con te E quando diventa uno con te Si sveglia E non siete due Siete uno Ed è tutto scritto Per noi Nelle scritture E mentre passiamo Attraverso questa serie Di incontri Nove Che iniziano Da stasera Cercheremo di spiegarlo Usando le scritture Per sostenere Le mie esperienze Chiaramente indicato Ma devo confessare Che non l'ho visto Non lo sapevo Non sapevo Nulla Della promessa Anche se Proprio lì Nella Bibbia Fino a quando È successo Proprio qui In questa città Dodici anni fa Esattamente domani Il 20 luglio 1959 È successo Proprio qui In questa città In quell'hotel Chiamato Sir Francis Drake Mi ero ritirato Dopo un pasto Molto piacevole Con un mio amico Mi sono ritirato Presto E poi Alle 4 del mattino L'intero drama Si è svolto Dentro di me Poi tutto il processo Ha richiesto 1260 giorni Per essere completato Proprio come Predetto Nel dodicesimo Capitolo Di Daniele E poi Riaffermato Nell'Apocalisse Daniele 12 7 Apocalisse 11 3 1260 giorni Dal primo grande evento Al quarto E l'ultimo Io ho registrato Tutto E voi Lo avete Nel libro Chiamato Resurrezione Ora stasera Facciamo in modo Che sia Una serata Piena e interessante Dopo il silenzio Avremo le vostre domande Io farò Io farò del mio meglio Per rispondere A ogni domanda Che mi verrà posta Ora entriamo Nel silenzio Ora ci sono domande Per favore Una signora del pubblico Fa una domanda Sulla vita Dopo la morte Neville Certamente Mia cara Ma voi vivete là Come vivete qui E la gente Ha paura Di morire là Come qui Perché si muore là Come detto Nel ventesimo capitolo Del libro di Luca E detto così chiaramente Ma l'uomo Non lo vede Lì abbiamo Quelli che sono Conosciuti come I saducei I farisei Beh Nel linguaggio moderno I saducei Sarebbero I miscredenti Estremi Scientificamente Preparati Intelligenti Ma senza Fede Nella sopravvivenza Perché credono Che il cervello Sia tutto Non solo Uno strumento Credono che il cervello Sia La realtà Stessa Non possono credere Che il cervello Sia solo Uno strumento E che il suonatore Sia invisibile Ebbene Saducei Pensavano di ingannare Il personaggio centrale Della scrittura E ponevano le domande Maestro Mosè Una volta disse Che se un uomo Si sposta E muore Senza parole E ha Dei fratelli E il secondo fratello Dovrebbe sposare La sua vedova E far crescere Il seme Per suo fratello Luca 20 27 E seguenti Ebbene I fratelli Erano sete E il primo Morì Senza lasciare I figli E il secondo Idem Morì Senza lasciare I prole E il terzo Pure Senza lasciare I prole Alla fine Tutti La sposarono E tutti Morirono E alla fine Lei morì Ora Chi è la moglie Nella risurrezione La sua risposta È questa In quell'epoca I figli di Dio Si sposano E sono dati In sposa Ma quelli Che sono ritenuti Degni Di raggiungere Quell'epoca E la risurrezione Non si sposano Ne sono dati In sposa Perché non possono Più morire Essi sono Figli di Dio Essendo figli Della risurrezione Luca 20 35 36 Quindi Se non si può Più morire Se non sono risorti Muoiono Come muoiono Qui Non si può Concepire In 60 anni Ciò che ne richiederà 6.000 Pubblico Credo che tu Abbia detto Prima della risurrezione Neville Prima della risurrezione Tutto muore Questo mondo È un mondo Di morte In realtà Questa è la domanda Che mi ha fatto Quest'uomo Di Folsom E non ho potuto Rispondergli Come volevo Perché se gli avessi Risposto Avrebbe buttato Via la lettera Se gli avessi detto Che ho visto Questo mondo morto Che tutto Si è fermato Che il tempo Si è fermato Tu hai questo potere Dentro di te E un giorno Lo eserciterai Lo arresterai In te Non nel mondo Rilascerai qualcosa Che senti nel tuo cranio E lo fai fermare E quando sarà E quando sarà restato Tutto il vasto mondo Si fermerà E sembrerà come se tutti Fossero morti Ogni essere Che un secondo prima Era così animato E così vivo Ora è morto È proprio come se fosse Fatto di argilla O di marmo E voi lo guardate E vi stupite Poi liberate In voi L'attività Che avete congelato E tutto continua Al suo corso L'uccello Che si è fermato Nello spazio Beh L'uccello Dovrebbe cadere No Improvvisamente Un uccello Viene arrestato Non è caduto A causa della gravità Se la cameriera Sta passando E io arresto In me La sua attività Lei non cadrebbe Era in movimento E sta semplicemente Ferma Sostenuta Dalla terra O dal pavimento Ma un uccello In volo Un uccello Certamente Dovrebbe continuare A cadere Perché Ho arrestato Il suo movimento Ma non è caduto L'uccello Stava fermo Nello spazio E lei stava ferma E i commensali Che cenavano Tutto stava fermo Quando ho liberato In me L'attività Che avevo arrestato Tutto ho continuato A compiere Il suo scopo Ora avrei potuto Cambiare La loro motivazione E poi Rilasciarla Avrebbe cambiato Il loro atteggiamento Verso la vita E avrebbero pensato Di averla originata Questo è il potere Che in realtà È destinato A tutto Sul globo E sapete Che viene Dall'alto E dall'alto Il mondo intero È completamente Controllato E lì disse Io vengo Dall'alto Voi siete Di questo mondo Io non sono Di questo mondo Quindi Questo mondo Appartiene Al mondo Della morte Tutto appare Cresce Tramonta E scompare E il sole Se ne va O si scioglie E lentamente Così mi è stato detto Non sono uno scienziato Stavo dicendo A un mio amico Prima di iniziare La riunione Ho più amici Dall'altra parte Del fello Che da questa parte Alla mia età Dovrei averne Qui Sembrano tutti vivi Comincio a contare Quelli che sono scomparsi E sono tutti laggiù E stanno ancora vivendo Proprio come vivevano qui Rianimati In un corpo Che è giovane Inspiegabilmente giovane E molti di loro Non sanno Della transizione Semplicemente Non lo sanno Pubblico Ti conoscono? Neville Mi conoscono Eppure Non sanno Della transizione Posso raccontare Una storia Avvenuta proprio qui In questo stato Il mio segretario È morto improvvisamente All'età di 50 anni Era con me Mio fratello Era il mio segretario Mio amico Mio fratello Jake Butler Era il suo nome Ho ricevuto un telegramma Che mi dicevano Che avevano trovato Il corpo sul pavimento È morto Per un grave infarto Quindi sono tornato E mi sono occupato Del funerale Sua sorella È insistito Per un funerale Cattolico Perché era cattolico Non era un cattolico Praticante Ma lei Insisteva Quindi Ho pagato Per le spese Ma era lei La sorella E ho promesso Che si prendesse Cura di lui Era A Haverstorm New York Abbiamo Preso il prete Abbiamo ottenuto L'appezzamento Di terreno In un cimitero Cattolico Quindi tutto Era in ordine Mia cognata La sorella Maggiore Di mia moglie Non credeva In quello Che insegnavo Sebbene Si considerasse Un pilastro Della chiesa Episcopale Le dissi Cos'è che non credi Lei rispose Non credo Nell'immortalità Credo Che l'immortalità Sia semplicemente La discendenza Che va avanti E continua Come puoi essere Cristiana E non credere Nell'immortalità O nella vita eterna Ebbene Lei ancora Non ci credeva Disse Sei gentile Con mia sorella Sei un buon marito E un buon padre Ma non credo Nel tuo insegnamento Sei mesi Dopo la morte Di Jack Mi ritrovai Cosciente In quello Che chiamano Quel mondo Pienamente cosciente Come lo sono ora E c'era mia cognata Lei mi disse Non credo ancora A quello che insegni Le ho detto Come puoi dire Questo è guardare Jack Su marito Lei rispose Cosa c'entra Jack Ho detto Lo sai che Jack è morto Beh lo sapeva Si ricordava Che era morto Sapeva che era tornato Dalla California Per occuparmi Del funerale E così Se ne ricordò Che la sua faccia Cambiò completamente Perché Jack era morto E lei ora Lo ricordava Allora Jack mi disse Chi è morto Io disse Jack Tu non sei morto Ma sei morto Lo sai Oh che stupido Non sono morto Ma sono morto Ho detto Si sei morto Ti ho fatto un bel funerale Casalingo In terra sacra Con un prete E tutte le cose Che si dovrebbero fare Allora ho detto a Jack Jack vieni qui L'ho fatto Mi ha obbedito Si è avvicinato E mi sono rivolto A mia cognata Io ho detto Guarda questo Al Ho messo la mia mano Sulla mia coscia E l'ho stretta Ed era solidamente reale Proprio come carne e sangue Mi ha guardato E ha fatto esattamente Quello che avrebbe fatto qui E ha detto Toglimi la mano di dosso Proprio così Mentre gli stringevo la coscia E a quel punto È rimasta sballordita E tutto si è disolto E io sono di nuovo Sul mio letto Questa è la mia esperienza con Jack Lui non sa di essere morto Perché non lo è Non è morto È morto solo per coloro Che non potevano seguirlo Ha perso il contatto Ma il mondo Non cessa di essere Quando i miei sensi Cessano di registrarlo Pubblico Credo fermamente Nella vita dopo la morte Ma non mi sono chiesta Se ci fosse un proseguimento Della comprensione Neville Sono occupati a fare i dollari Come lo siamo noi qui E non c'è potere di trasformazione Nella morte Un uomo Che era un ladro qui Si trova ancora desideroso Di prendere i beni Dei altri Colui che è gentile E premuroso qui E gentile E premuroso là Quando ho citato Dal ventesimo capitolo Del libro di Luca La parola degno Sono stato interrogato Più volte Su quella parola Per definizione Significa Sembrare Completamente Meritevole Beh Agli occhi di chi? Agli occhi di colui Che viene innalzato? No Agli occhi di chi guarda? Quell'oro Che sono i risuscitati Agli occhi Della loro fratellanza Quello sembra degno Del tutto Meritevole Di essere risvegliato Dal suo sogno Ha fatto sogni Orribili E sogni belli Ed è passato Attraverso La macina E ora Di svegliarlo Dal sogno Lui è degno Le sue esperienze Sono finite Quando si toglie Il corpo Per l'ultima volta Altre domande Per favore Pubblico Lei Ha detto qualcosa Sui suoi spettacoli Televisivi Non li conoscevo Neville Ne avevo 26 A Los Angeles Su Channel 11 Erano 13 E poi Ho fatto una pausa Di circa 3 mesi E mi hanno richiamato Per altri 13 Erano 26 spettacoli Di mezz'ora Ho fatto proprio Quello che sto facendo ora Mi hanno dato un legio E mi sono semplicemente Seduto a una scrivania E ho parlato Contemporaneamente Non c'era nessun segnale Che mi facesse entrare Quando hanno fatto partire La telecamera Ero seduto alla scrivania Non dovevo scendere dal palco Non dovevo salire sul palco Non c'era nessun regista Ero semplicemente seduta Alla scrivania E poi la telecamera Si è semplicemente spostato Su di me E poi alla fine Di quello che dovevo dire Si è semplicemente spenta C'era un'enorme pubblicità Su di me E' stato un successo enorme Per quanto riguarda Quello che faccio Ma non potevo usarlo Per vendere profumi Mi è stato detto Che avevo un pubblico Di più di 38.000 persone Ogni domenica pomeriggio Tra le 2 e le 2.30 Questo è quello che mi è stato detto Dal sondaggio Stimato così Tanti spettatori In quei giorni Non si registrava Si faceva tutto in diretta In quei giorni Tutto era in diretta Per la tv E i nastri sono arrivati dopo Quindi Quelle cose Sono solo un ricordo ora Pubblico E' stato molti anni fa Neville Oh sì Ora appaiono solo In un pannello Occasionale Ed è divertente Ti lasciano andare Completamente fuori E dire loro Quello che sai Per esperienza E' divertente Specialmente Quando hai un gruppo Molto critico Intorno a te Che cerca di Detronizzarti O di Prenderti in giro La maggior parte Dei miei critici Sono quelli che parlano Solo per teoria Non per esperienza Pubblico Qualcuno ha scritto Su Gurdjieff E Ospensky E contrariamente A quello che dici tu Parla di evoluzione Ma Da quello che dici tu Suppongo Che sia davvero Come un sogno Neville Per quanto mi riguarda Potrebbe Intendere qualcosa Di completamente diverso Da quello che Intenderei io Se usassi la parola Evoluzione Io non accetto L'evoluzione Credo che Dio Sia divenuto Effettivamente Come io sono E Dio Si risveglierà In me E quando si risveglierà Io sono lui Ma ora Se il libro A cui si riferisce E' di Nicole Raccomandato Nicole Come un grande Pensatore Nicole Era un grande Pensatore Una persona Meravigliosa Ora se n'è andato Da questa sfera Come se n'è andato Gurdjieff E tutti gli altri O Spensky Non c'è più Ma loro Usavano Una terminologia Diversa Io non insegno Quello che alcuni Di loro fanno Che è la Reincarnazione Per esempio No Per me L'uomo è Individualizzato E Tende sempre All'individualizzazione Sempre più grande Credo fermamente Che il vero Tempio di Dio Sia l'individualità Dell'uomo Resa più chiara Dalla presenza Di Gesù Cristo L'unico sepolcro In cui Egli è stato sepolto E' il cranio Dell'uomo Egli in realtà Abita l'uomo E un giorno Si risveglierà Nell'uomo E quando si risveglierà In quell'uomo Quell'uomo saprà Di essere Il Signore Gesù Cristo Ma Egli si risveglierà In ogni uomo Egli Ha preso Su di sé L'umanità Così che Uccidere l'uomo E uccidere Dio La gente Non lo vede Fare del male All'uomo E fare del male A Dio Egli sta soffrendo Tutti i mali Che l'uomo soffre Ma tutti Bene Penso che il tempo Sia finito Ora siamo qui Ogni sera Dall'uomede al venerdì Di ogni settimana E dal lunedì Al venerdì Della prossima settimana Iniziamo Dalle 7.30 E andiamo avanti Fino alle 8.30 Quindi spero di rivedere Molti di voi Buonanotte Io mi fermo qui E vi aspetto domani Ciao a tutti Grazie Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti